Ciao ragazzi, buongiorno a tutti e benvenuti sul mio canale Cantare in Libertà. Eccoci nello spazio riservato ai vocalizzi. Oggi ci aiuterà Francesca Spagnolo, che è una brava cantante e quindi ci darà una mano per le voci femminili. Dopo la sigla. Bene ragazzi, il vocalizzo di oggi è un vocalizzo composto da cinque note con l'ultima rimbalzata. Vi faccio sentire. Faccio intanto già per i bassi un esempio. Faccio un esempio un po' più acuto. E a tempo. Faccio un altro esempio. Attenzione a non fare i i i i di gola, ma come con l'aria calda che esce. In modo da utilizzare il diaframma e farlo sobbalzare un po'. Proviamo un esempio per le voci femminili. Esatto. Questo è l'esercizio. Ora proviamo a farlo partendo dal basso, quindi per le voci più gravi, sia per gli uomini che per le donne, quindi per i contratti. Le voci più basse delle donne sono i contratti. E poi man mano saliremo fino a coprire circa due ottavi. Iniziamo dai bassi. Provate voi. Qui. Qua possono farlo anche le donne. Facciamo un esempio. Qui. 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 e 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 con un palato un po' alto andiamo avanti e 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 proseguiamo per le voci più basse tipo mezzo soprano e contralto per le donne per i maschietti basso e baritono e 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 andiamo appuntamento alla prossima puntata sperando di avervi fatto cosa gradita tchau 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 e e e e e e e